E' tutto per Filippo Crinò, la pagina più bella di questo avvio del nuovo anno nei campionati di calcio. Fermo da 25 mesi, costretto a due operazioni al ginocchio con interessamento dei legamenti, una carriera ad un certo punto pregiudicata, l'attaccante barcelonese non si è mai perso d'animo, ha lavorato sodo per tornare in campo e il mister Raffaele lo ha convocato per la prima volta domenica in occasione di Igea Virtus Sarnese per la giornata inaugurale del 2017 e del girone di ritorno del campionato di Serie D. Crinò inizialmente in panchina, 0-0 alla fine del primo tempo, negli spogliatoi il tecnico pirainese ordina il cambio. Fuori un centrocampista, Pitarresi, dentro un attaccante, Crinò, che non metteva piede su un rettangolo di gioco dal dicembre 2014. Trascorrono appena 5 minuti, calcio d'angolo di Cozza al bacio proprio per Crinò, colpo di testa in torsione, palla in rete con il tankoltres Barone che esplode per l'entusiasmo. Non è finita qua, Crinò è stato protagonista nell'azione del raddoppio del bomber Lescano ed ha sfiorato il bis personale, concludendo in gloria, acclamato dai tifosi e diventando protagonista in sala stampa. Per la cronaca, Crinò non segnava da un Milazzo Igea Virtus campionato di eccellenza dell'ottobre 2014. Oltre al recupero di un giocatore importante, Raffaele inserisce nel suo arco una freccia ulteriore nel cammino verso la Lega Pro, anche in vista del big match in programma domenica. Arriva appena la seconda giornata di ritorno, la sfida al vertice è Cavaise Igea, che quindi non sarà decisiva, ma i campani, attardati di sei lunghezze dalla formidabile capolista giallorossa, hanno anche una gara in meno, non avendo giocato domenica a Palmi a causa della neve. In teoria quindi, vincendo con la Palmese e battendo l'Igea, i campani aggancerebbero i barciolonesi. Ma è solo teoria, la pratica è un'altra cosa davanti all'Igea Superstar, che ha intanto ottenuto il decimo risultato utile consecutivo e Viancia con il vento in poppa in vetta alla classifica.